le nostre due realtà. Una sede dell'Università Gabriele D'Annunzio prenderà vita a Caramanico Terme e verrà ospitata nell'ex convento delle Clarisse del Seicento in zona San Maurizio e San Nicola. L'accordo quadro tra l'Ateneo guidato dal rettore Liborio Stupia e il sindaco Luigi Deacetis è stato sottoscritto nel corso di una cerimonia proprio all'interno del monastero sconsacrato. L'accordo quadro mira a promuovere attività didattiche e di ricerca valorizzando il territorio attraverso iniziative formative quali corsi residenziali estivi e invernali e corsi di specializzazione. Inoltre si prevede lo sviluppo congiunto di progetti ed eventi di valorizzazione territoriale contribuendo allo sviluppo socio-economico e culturale della regione. L'ex convento delle Clarisse di Caramanico diventerà dunque sede universitaria per corsi di laurea, master di primo e secondo livello, summer and winter school, come ha spiegato il rettore Stupia. Il nostro Ateneo sta portando avanti un percorso di apertura al territorio che ci permetterà di trasportare parte delle nostre attività in alcune delle regioni più belle del nostro territorio e in questo caso in particolare qui a Caramanico in questa bellissima struttura del convento delle Clarisse. L'idea di farla diventare la sede per esempio delle summer school, cioè delle scuole di livello superiore di formazione in cui si potrà offrire istruzione e insieme alloggio e insieme possibilità di visitare delle bellezze naturali facendo anche conoscere così il nostro territorio in tutta Italia e anche all'estero.